E' polemica dopo l'ennesimo incidente avvenuto in via Spineta. Al centro della bufera la mancanza di una segnaletica adeguata e più in generale la poca sicurezza dell'incrocio con via Noschese, che ha registrato sinistri in più di un'occasione anche per via del mancato funzionamento dei semafori. Di qui la polemica sui social network, dove molti cittadini hanno manifestato il loro malessere per una situazione che mette in pericolo molti automobilisti. La proposta di qualcuno, oltre alla messa in funzione dei semafori presenti in zona, è la realizzazione di una rotatoria che potrebbe limitare i rischi.